Buongiorno, sono Elena Berardi dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, responsabile della catalogazione dei beni fotografici. L'Istituto, come è noto, conserva un rilevante patrimonio di fotografia storica e quindi le normative di catalogazione, in prima battuta, le ha sempre sperimentate proprio sul proprio patrimonio e le lunghe fasi di sperimentazione hanno avuto quindi un terreno molto fertile in questo patrimonio così corposo. Bene, vedremo in questa lezione tutte le varie fasi della catalogazione e tutte le attività che la precedono. Parleremo della descrizione dei beni fotografici iniziando con la scheda F fotografia e vedremo che l'inventariazione, l'attività di inventariazione deve necessariamente precedere la catalogazione in quanto nelle schede di catalogo alcune parti dei paragrafi che la compongono sono destinati a riportare informazioni precedentemente registrate. Fanno quindi parte inventariazione e catalogazione di una filiera di lavoro che completa un percorso in qualche modo. Ma vediamo intanto in ICCD quali sono i sistemi attraverso i quali la catalogazione si rende possibile, visibile. Dunque i sistemi di gestione e fruizione dei dati per la fotografia in ICCD sono il SIGEC Web che è il sistema informativo attraverso il quale le più varie istituzioni, istituzioni pubbliche, private, istituti di ricerca e così via effettuano catalogazione e tutto l'insieme delle catalogazioni effettuate viene riversato nel catalogo generale dei beni culturali che nella sua nuova veste è stato pubblicato poco tempo fa e veramente comprende all'interno moltissime notizie, molto versatile come sistema destinato ad arricchirsi sempre più. All'interno dell'istituto l'ICCD appunto dispone del sistema di archiviazione per le immagini digitali del SAGID quindi che è un sistema che venne diciamo che venne realizzato alcuni anni fa quando si sentì la necessità di riversare grandi quantità di dati digitali prodotti sino allora dall'istituto centrale per il catalogo e la documentazione. Torno a ripetere che il patrimonio conservato dall'istituto è molto rilevante e nel corso degli anni, nel corso del tempo l'istituto si è fatto carico in vario modo del materiale che conserva quindi inventariandolo, descrivendolo con sistemi più o meno approfonditi di descrizione e compresa certo anche la catalogazione vera e propria a livelli e quindi di descrizione più approfondita. Tutto questo insieme di dati sparso in vari sistemi alcuni anni fa e parlo di una decina di anni fa è stato riversato in questo sistema SAGID che attualmente è fruibile presso l'ICCD e visibile attraverso dati.beniculturali.it Soffermiamoci sul catalogo generale dei beni culturali. Non voglio qui entrare in merito al sistema che qualcuno sicuramente chi ci ha lavorato lo spiegherà meglio di me e più approfonditamente ma voglio puntare l'attenzione sulla presenza dei beni fotografici all'interno di questo sistema. Vediamo quindi che il catalogo contiene 44.971 schede di catalogo prodotte a livello nazionale. Se io voglio approfondire la ricerca posso qui digitare regione Lazio Colosseo. Il sistema mi restituisce tutte le fotografie catalogate con scheda F, con scheda F, F a livello, a livello non soltanto, quindi a livello descrittivo dove per ogni immagine viene data e viene fornita una scheda riassuntiva dei contenuti e ha legato un pdf nel quale posso vedere tutta la scheda di catalogo. Quindi dicevamo faccio una ricerca su regione Lazio Colosseo e il sistema mi restituisce un insieme di immagini e poi ancora potrei scegliere un'immagine in particolare, questa del Colosseo con la meta Sudans. Gli autori sono Altobelli e Molins. Mi vedo la scheda e considero i dati che sono riportati in quella scheda e poi il sistema mi offre ancora la possibilità di vedere tutte le altre schede che all'interno del sistema sono di quell'autore e in questo caso Altobelli e Molins vediamo che esistono altre 33 schede, così come altre schede di catalogo che per similitudine potrebbero interessarmi e mi dà il risultato 29 schede, quindi in questo modo io posso navigare all'interno del sistema. Facciamo un passo indietro e ritorniamo invece a considerare le attività che all'interno di un'istituzione che debba catalogare si debbono preventivamente mettere in atto. Allora, l'attività di inventariazione è un'attività vera e propria che consente l'inventariazione dei beni, la registrazione dei beni acquisiti che possono afferire a musei, biblioteche o archivi e mi consente il monitoraggio della consistenza patrimoniale delle raccolte. Quando parliamo di inventariazione parliamo della posizione di un numero su ciascun oggetto fotografico. Come si esplica l'azione inventariale? Beh, si esplica attraverso la redazione di cataloghi inventariali. Nella fattispecie l'ICCD utilizza dei file Excel che nel tempo sono diventati sempre più corposi e sofisticati che in parte riportano i campi della scheda F ad un livello inventariale. Ma in ogni caso il file Excel deve fornire una sorta, quindi l'inventario deve fornire una sorta di carta di identità che identifica inequivocabilmente quel determinato bene fotografico. Qui ho portato un esempio di qualche anno fa. Adesso sono ad esempio per fondi particolarmente rilevanti quando non sia possibile effettuare una catalogazione. Certamente è un'operazione più complessa di quanto non sia la compilazione di un file Excel, questo è evidente, però per fondi appunto, dicevo, di particolare rilevanza. Mi viene qui in mente il Fondo della Direzione Generale Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione che stiamo descrivendo. Beh, ne parleremo più diffusamente e analizzando la scheda per i fondi fotografici i file sono sempre più ricchi di informazione proprio perché non avendo la certezza di poter poi procedere con una catalogazione a tappeto quanti più dati siamo in grado di produrre e di conoscere, tanto più questi file si arricchiscono. In ogni caso, per ottemperare all'attività di inventariazione dobbiamo avere un numero di cordata che solitamente è l'iniziale del nome del fondo fotografico più un numero di cordata per ogni oggetto che va da 1 a X oppure una lettera che sta ad indicare il formato del negativo ma questo si usava soprattutto con il GFN e con il Gabinetto Fotografico Nazionale quando venivano prodotte le lastre dunque il formato della lastra più un numero sequenziale di cordata e quindi il numero identificativo per ciascuna fotografia e la collocazione dove si trova quell'oggetto come è stato sistemato all'interno dell'insieme la data di inventariazione che cosa sto inventariando se un positivo, un negativo, un daguerro tipo e così via il soggetto rappresentato la cronologia se non conosco la specifica trascriverò la generica e l'autore laddove questo si può facilmente vincere dalla firma, dal timbro o lo si può dedurre dall'osservazione della fotografia certo l'inventariazione non presuppone un approfondimento specifico perché questa modalità è riservata appunto alla catalogazione e dunque le finalità dell'inventariazione sono l'attribuzione di un numero univoco identificativo e la rilevazione dei seguenti dati fondo di appartenenza la collocazione come dicevamo la data di inventariazione l'oggetto il soggetto la cronologia ed è chiaro che tutti questi elementi l'esplicitazione di questi elementi concorrono a definire la stima del bene che cos'è un inventario allora i beni debbono nello Stato essere immessi nel patrimonio quindi ogni istituto è tenuto a registrare i propri beni e per qualsiasi tipo di gestione quindi l'attività di inventariazione è imprescindibile perché banalmente si può tutelare tutto ciò che si conosce non altrimenti quindi inventariare i beni vuole dire costituire creare per essi una sorta di carta di identità che viaggia da quel momento in poi con loro generalmente l'inventario è organizzato con una numerazione progressiva quei numeri rimandano a delle descrizioni come abbiamo visto più o meno particolariggiate la cui finalità è appunto il riconoscimento l'identificazione degli oggetti a cui è necessario anche attribuire una valutazione economica naturalmente nel caso dei beni culturali e statali inalienabili per definizione diviene questa la stima cos'è l'inventario quindi l'inventario è una pratica che ha alle spalle una lunga tradizione è un adempimento di legge più che una pratica e in Italia gli strumenti di cui disponiamo sono ancora sono piuttosto datati anche se ultimamente si sta cercando di modernizzare in qualche modo in ogni caso il regg il diciamo che gli strumenti fondamentali sono due il registro cronologico di entrata che riveste però un valore più amministrativo e patrimoniale e quindi deve essere trascritto in esso qualsiasi unità di materiale documentario tutti gli oggetti di interesse artistico storico scientifico che entrano a far parte del patrimonio e poi il catalogo inventariale che è quello che vi ho mostrato prima il famoso File Excel che ha il compito di documentare anche a fini patrimoniali e di sicurezza la consistenza del patrimonio che un istituto conserva e dicevamo che il numero accompagna permanentemente il bene e in questo modo io lo pongo in sicurezza in sicurezza so che è registrato e quindi anche per una questione di sicurezza proprio di tutela del patrimonio l'inventariazione è considerata un'attività è un obbligo di legge sotto tutti i punti di vista perché lo Stato grazie agli inventari può disporre di dati conoscitivi essenziali e quindi valutare ciò che conserva mi soffermo così dettagliatamente sull'inventariazione perché nella scheda di catalogo ampie parti sono dedicate proprio alla inventariazione a riportare dati prodotti fino a quel momento quindi già iniziamo a vedere che l'attività di catalogazione arriva dopo arriva in un secondo momento e solo quando io ho ben chiaro gli oggetti che voglio sottoporre a catalogazione ma prima devo averli inventariati e diciamo devo aver fatto delle valutazioni sullo stato di conservazione o provvedere in tal senso quindi tutta una filiera di attività propedeutiche alla vera e propria catalogazione e quindi vedremo poi come la scheda di catalogo sia suddivisa in paragrafi e tematica ogni paragrafo affronta un una una problematica diversa un insieme raccoglie una serie di informazioni diciamo così quindi dei codici che sono attribuiti alla fotografia che stiamo catalogando alla agli autori alla localizzazione alle localizzazioni pregresse ai dati inventariali quindi sui dati inventariali poi lo vedremo quindi sui dati inventariali io devo riportare una serie di informazioni qualora le abbia allora vedevamo prima che il file Excel consente di descrivere una ad una le fotografie gli oggetti fotografici e viene poi annualmente riportato alla ragioneria generale dello Stato e il diciamo tutto ciò che è stato inventariato è attribuito quindi a quel punto un codice inventario di inventario patrimoniale che diciamo accompagna l'intero fondo fotografico potrei aver inventariato con il catalogo inventariale con il file Excel mille fotografie facenti parte di un determinato fondo diciamo fondo L'Elier e al momento in cui io consegno i registri inventariali alla ragioneria centrale mi viene restituito un numero che contraddistingue l'intero fondo in questo caso quindi è uno poi riporterò sempre nello stesso paragrafo il nome del funzionario responsabile la data di immissione nel patrimonio dello Stato la descrizione dell'oggetto quindi si tratta di fondi fotografici per i quali appunto mi riferisco al modello 15 come vedete la provenienza di quel fondo quindi chi l'ha venduto all'ICCD la modalità di acquisizione può essere compravendita dono e così via in questo caso una compravendita la stima patrimoniale di quel fondo e l'afferenza di quel fondo ai beni archivistici perché adesso lo vedremo a livello nazionale e adesso lo vedremo i fondi fotografici afferiscono ai beni archivistici e quindi passiamo all'attività di catalogazione che diciamo si esplica attraverso l'analisi analitica dei beni l'acquisizione di informazioni sia sugli aspetti fisici che contenutistici del bene l'analisi e la contestualizzazione storico-critica e l'attività di catalogazione consente il monitoraggio dello status fisico-amministrativo dei beni per la loro conservazione gestione e fruibilità l'azione di catalogazione si esplica attraverso la redazione delle schede di catalogo ma viene catalogato tutto il patrimonio è ipotizzabile una soluzione di questo tipo direi proprio di no la catalogazione è un'operazione complessa non lo è la scheda di catalogo come a volte viene impropriamente sostenuto da chi non la conosce a fondo la scheda F è piuttosto estesa proprio perché si deve prestare alla descrizione di qualsiasi tipologia di bene fotografico positivo negativo fotografia di metà ottocento così come fotografia degli anni sessanta del novecento per cui è indirizzata a descrivere qualsiasi tipologia di bene è un'azione complessa che presuppone ricerca questo sì per cui è evidente che la catalogazione deve essere effettuata mettendo a punto dei progetti si deve conoscere esattamente ciò che si vuole catalogare e ciò che all'interno di un fondo fotografico sia diciamo necessiti di un approfondimento più puntuale vedremo poi vari livelli di catalogazione e quindi ancora inventariazione e catalogazione sono due momenti due livelli due momenti di uno stesso processo cognitivo questo l'abbiamo visto le schede di catalogo vengono realizzate all'interno del sistema informativo generale del catalogo il SIGEC web l'istituto controlla l'intero processo di produzione delle schede di catalogo permette la diffusione degli standard catalografici con i relativi aggiornamenti consente la fruizione dei dati e la condivisione con altri sistemi ma cosa sono gli standard dunque gli standard sono ad esempio quelli che emana l'ICCD per descrivere i beni culturali tutti ad esclusione di quelli archivistici e di quelli librari che hanno proprie regole e proprie standard o li vedremo comunque scopo principale dello standard la funzione è quella della condivisione di regole e quindi di poter effettuare con maggior praticità la catalogazione partecipata e distribuita sul territorio lo standard riguarda sia il modello per il trattamento e la gestione dell'informazione sia l'omogeneità la qualità delle informazioni che in esso confluiscono e sono diversi a livello nazionale e internazionale gli standard prodotti quindi come dicevo l'ICCD è un emanatore di standard per una serie di beni immobili immobili e da quelli quindi dei beni storico-artistici e beni archeologici etno-antropologici e così via e l'ICCD sempre emane e aggiorna le norme di catalogazione e gestisce le quali vengono poi materialmente utilizzate nell'ambito del SIGEC web poi ancora in Italia l'ICU l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane per le informazioni bibliografiche emana standard e quindi adottato e cura l'adeguamento e la conversione a livello nazionale degli standard ISBD International Standards Bibliographic Description definiti dall'IFLA e emane e aggiorna le norme di catalogazione per autore le REICAT che sono poi ampiamente utilizzate anche da istituzioni non bibliotecarie musei archivi e così via sono un punto di riferimento e poi l'ICCD l'ICCD gestisce il servizio bibliotecario nazionale ancora l'istituto centrale per gli archivi ha le proprie regole e i propri standard lo standard SAN il sistema archivistico nazionale e poi ancora le ISAD lo standard per la descrizione archivistica International Standard Archival Description quindi proprio un appunto è uno standard internazionale adottato dagli archivi tradotto adottato utilizzato e quindi prevede la gestione delle informazioni sul contesto di produzione all'interno della descrizione dei complessi archivistici ad ogni livello di descrizione e offre la possibilità di raccogliere e aggiornare le informazioni di contesto in modo autonomo di collegarle all'insieme degli altri elementi informativi utilizzati per descrivere archivi e documenti e poi le ISAR che sono lo standard per la produzione di record di autorità archivistici di enti persone e famiglie quindi sono questi due capisaldi della descrizione archivistica degli standard archivistici anche se non è stato messo a punto un modello per il patrimonio fotografico perché poi molto spesso appunto è insito nei fondi archivistici si trova e è presente all'interno dei fondi archivistici ma questa è una realtà comune ai fondi fotografici conservati nelle biblioteche che spesso sono accomunati anche ad altri materiali o anche nel mondo dei musei e anche all'ICCD i fondi archivistici sono spesso parte di i fondi scusate fotografici sono parte integrante di fondi più complessi che comprendono macchinari fotografici biblioteche archivi degli autori che hanno donato o venduto i loro fondi all'istituto per cui molto spesso i fondi fotografici sono una parte una componente di insiemi più complessi e come dicevamo appunto le ISAR sono i record di autorità archivistici e così via naturalmente l'intento è quello di far dialogare gli standard tra di loro è proprio questa l'attività a cui si tende sempre più attraverso i processi di digitalizzazione per quanto riguarda la fotografia tornando agli standard non possiamo non pensare al modello dell'IBC prodotto appunto dall'istituto dei beni culturali dell'Emilia Romagna perché nel 1990 venne ammesso appunto un primo modello schedografico ampiamente utilizzato nelle biblioteche e che di natura prettamente biblioteconomica però questo manuale aveva anche il pregio di contenere oltre alle indicazioni descrittive delle fotografie dei vari insiemi di fotografie anche delle appendici molto importanti che raccomandavano come esprimere il soggetto nella fotografia il titolo nella fotografia quindi forniva anche una serie di spunti e di riflessioni sul modo di accostarsi al bene fotografico quindi è stato veramente un manuale importantissimo che ha in qualche modo influenzato tracciato la strada al momento in cui si è deciso nell'istituto centrale per il catalogo e la documentazione di redigere una scheda doc per la fotografia questo avvenne nove anni più tardi nel 1999 e che cosa qual è la particolarità della scheda F beh sicuramente il fatto che quella prima commissione per redigere la scheda fosse composta da bibliotecari archivisti storici dell'arte che in quell'occasione proprio perché la fotografia come sappiamo è un bene trasversale e posseduto a vario titolo da varie istituzioni per cui era necessario poter mettere a punto uno standard che comprendesse le specificità anche di ciascuno che mettesse a disposizione di tutti gli altri le risorse che nascevano nell'ambito di un determinato contesto e qui vorrei ricordare che in quella prima scheda F del 99 venne anche pubblicato un piccolo una piccola appendice su il mapping tra scheda F e Unimark proprio per consentire più agevolmente lo scambio di dati tra istituzioni diverse parliamo del 1999 quindi erano veramente i primi segnali in tal senso nel senso dell'interoperabilità che però già era molto diffusa nell'ambito delle biblioteche anche a livello internazionale e quindi ancora oggi questa necessità è avvertita e si sta lavorando in tal senso perché esistono attualmente tante banche dati disomogenee sia per la tipologia di materiali alle quali si riferiscono sia per gli standard utilizzati quindi è avvertita molto forte l'esigenza di integrazione di interoperabilità proprio per consentire la più ampia fruizione dei dati prodotti le nuove tecnologie tendono ad uniformare ma i processi che sovrintendono alla gestione dei flussi sono lunghi e complessi quindi dei dati passiamo alle informazioni strutturate le quali consentono la conoscenza al momento i dati sono i dati sono che sono i dati utilizzati vengono utilizzati appunto settorialmente ma si avverte la necessità anche di mantenere vive le informazioni altrimenti se non si ritorna costantemente non si non si veicolano attraverso i giusti canali rischiano di invecchiare quindi la digitalizzazione alla quale oggi assistiamo è un fenomeno ancora giovane quindi siamo proprio ancora in una fase in cui i contenuti sono granulari e frammentari e bisogna quindi operare adesso un salto di qualità questo ci aspettiamo e quali sono gli scenari attuali beh intanto condividere le buone pratiche con tutti gli istituti centrali e del ministero della cultura la necessità di integrare quindi le varie banche dati tra loro condividere sistemi informativi certamente i link da open data in tal senso offrono una grandissima possibilità di coordinamento e di conoscenza e a che cosa deve tendere l'intero l'interoperabilità a mettere a regime tutte le informazioni attualmente esistenti ma tra loro non collegate torniamo alla scheda F dunque la prima versione di scheda nel 1999 e l'aggiornamento della scheda in versione 4.0 del 2016 più o meno quindi la nuova normativa 4.0 eredita naturalmente l'impostazione concettuale della prima scheda F proprio perché devo dire faccio un commento personale era pensata a misura di fotografia quindi è ovvio che nulla è andato perduto dell'impegno profuso a suo tempo ma oggi si giova la nuova normativa anche della sperimentazione di tanti e tanti anni di attività di circa un ventennio di attività in cui non è stata utilizzata soltanto nell'ambito dei musei ma anche in biblioteche archivi è stata largamente utilizzata e poi perché ritornare sulla sulla scheda F per quale motivo l'istituto aggiorna le proprie normative perché sono diciamo delle degli strumenti di lavoro che vivono con nei contesti che man mano evolvono anche dal punto di vista e anzi soprattutto dal punto di vista informatico e quindi evidente che non possono rimanere statiche negli anni ma che in qualche modo debbono adeguarsi al contesto generale anche non esclusivamente di stampo storico artistico e per cui siamo passati dalla versione 2 alla versione 4 dei nostri giorni dei nostri giorni insomma di questi ultimi anni viene utilizzata la versione 4 proprio per facilitare processi conoscitivi dei quali la catalogazione parte integrante come dicevamo che la scheda F deriva da scelte condivise e ecco magari è importante soffermarsi su questo aspetto e più di altre discipline la fotografia afferisce a tanti ambiti disciplinari diversi ciascuno portatore di una propria tradizione catalografica e proprio perché la fotografia è un bene trasversale quello che si è inteso realizzare mettendo a punto una normativa di catalogo è stato quello di poter creare uno strumento duttile utilizzabile in differenti contesti e del resto varie sono le istituzioni che collaborano tra di loro ricordiamo le associazioni di musei archivi biblioteche oppure dell'AIB l'associazione italiana biblioteche ancora la NAI l'associazione nazionale archivistica c'è questo bisogno di mettere appunto un sistema comune di condivisione delle risorse il sistema informativo sappiamo che è il SIGEC appunto quello nel quale la nostra normativa viene recepito dal quale la nostra normativa viene recepita mi voglio soffermare brevissimamente sul fatto che prima della redazione e dell'aggiornamento della scheda F già prima era in atto presso l'istituto la realizzazione di una normativa trasversale perché nel corso del tempo ci si è resi conto che gli oggetti meritevoli i beni culturali meritevoli di catalogazione erano moltissimi e allora dalle iniziali schede di catalogo ne sono state prodotte molte altre ognuna con le proprie specificità per cui si è reso necessario redigere una scheda unica uniforme valevole per tutte le tipologie di beni culturali ferme restando naturalmente le specificità di ciascuna ad esempio per quanto riguarda la scheda F pacetto naturalmente anche i paragrafi trasversali vengono adattati al bene oggetto di catalogazione però ad esempio nella scheda F su 23 paragrafi 19 sono trasversali comuni quindi alle altre categorie di beni e solo 4 sono specifici della fotografia e quindi l'aggiornamento della scheda F è stato accompagnato da quello della scheda FF anch'essa allineata alla versione 4 come tutte le schede anche la scheda F è costituita da un tracciato e dalle norme di compilazione che spiegano nel dettaglio come debbono essere redatti i contenuti della scheda la struttura dei dati è organizzata una serie di insiemi omogenei come vedevamo prima di informazioni le informazioni sono raccolte all'interno dei paragrafi che sono distinguibili anche dal punto di vista grafico quindi il paragrafo abbiamo il paragrafo relativo ai codici quello relativo alla definizione del bene quello per i dati di localizzazione e così via per tutta la scheda qui vediamo nello specifico il paragrafo relativo ai codici quindi devo specificare ma ho tutta una serie di poi di vocabolari di supporto all'interno del sistema il tipo di scheda che voglio catalogare come vedete esiste un intanto obbligatorio gli asterischi rossi che vedete stanno a significare l'obbligatorietà dei campi che devo necessariamente compilare perché la scheda venga accettata dal sistema al di sotto di quel livello il sistema non la recepirebbe per cui è livello inventariale il minimo e qui per il tipo di scheda io ho una serie o un vocabolario chiuso all'interno del quale cliccherò e sceglierò il bene di interesse poi devo specificare il livello di catalogazione su quale livello descrittivo io mi voglia attestare e ancora il codice regione anche qui c'è un vocabolario nel caso del Lazio è il numero 12 il numero di catalogo generale che viene assegnato prima di effettuare quindi i numeri di catalogo generale vengono assegnati a chi alle istituzioni che ne fanno richiesta dall'ICCD e accompagnano il bene catalogato sono in questo caso come il numero inventariale accompagna il bene fotografico il numero di catalogo generale accompagna la scheda univocamente e lente schedatore lente competente per tutela e così via nel caso delle schede CCD è sempre l'ICCD appunto quindi come vedete ogni paragrafo della struttura contiene una serie di elementi chiamati genericamente campi le singole righe quindi che compongono il paragrafo stesso il paragrafo e gli elementi che ne fanno parte sono identificati con una sigla acronimo che è quella che vedete sulla sulla mia sinistra e poi una serie di altri campi ho indicata sempre la lunghezza del campo se è ripetitivo oppure no l'obbligatorietà se esistono vocabolari il livello di visibilità quindi le norme di compilazione abbiamo già detto ed è importante applicarle rigorosamente proprio per effettuare una corretta redazione delle schede come dicevamo esistono i paragrafi che possono essere campi semplici nel caso del vedete degli acronimi a tre lettere oppure campi strutturati ovvero quei campi che contengono poi al loro interno sottocampi poi appunto una serie di formalismi abbiamo detto e le proprietà la lunghezza di ogni campo ripetitività obbligatorietà ne abbiamo appena parlato poi esistono tre livelli di approfondimento schedografico da un livello minimo di inventario fino a un livello di precatalogo ovvero intermedio e un livello di catalogazione il più approfondito possibile e vari strumenti terminologici abbiamo avevamo visto vocabolari chiusi vocabolari aperti e avevamo anche parlato poco fa del fatto che sui 23 paragrafi 4 paragrafi sono esclusivamente appannaggio della scheda F ovvero sia quello sul soggetto sul luogo e data della ripresa su produzione e diffusione e sul rapporto nella slide poi ciascuno di questi è maggiormente specificato la soggettazione così come diciamo la la ricerca per autore è uno dei cataloghi uno dei canali fondamentali per la ricerca per cui appunto la ricerca all'interno di un sistema informativo io la posso effettuare per soggetto per autore quindi è chiaro che sono proprio questi campi i quali bisognerà dare maggior rilievo e più la catalogazione semantica del bene è effettuata secondo certi criteri standardizzati di espressione di espressione proprio della stringa del di soggetto di formalizzazione del soggetto e più avrò esponenzialmente possibilità di trovare maggiore quantità di dati per la ricerca che sto effettuando e nella scheda F viene raccomandato di riferirsi al nuovo soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che è uno strumento assai versatile utilizzato per la catalogazione dei libri ma non solo anche di fotografia e consiglio prima di intraprendere qualsiasi attività di catalogazione di mettere a punto di fare una riflessione specifica sulla formalizzazione dei soggetti proprio perché sia quanto più possibile strutturato in un secondo determinati criteri la scheda di catalogo offre la possibilità di unire anche varia tipologia di documentazione allegata da quella fotografica documenti d'archivio documentazione videocinematografica documentazione grafica documentazione audio e io mi fermerai qui anche se poi viene riportato un caso di catalogazione una scheda di catalogo e compilata ad un livello alto quindi un livello C un livello di catalogazione alto proprio per vedere potrete vedere attraverso la diciamo i campi compilati come si deve procedere nella descrivere un bene fotografico di the in a in in a a a a a Grazie a tutti.